ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario moti xd informazioni commerciali titolare slice srl concessionario slice srl confezioni moti xd 120 compresse da 1000 mg cada una moti xd 60 compresse da 1000 mg cada una formulazione prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe curcuma barra curcuma longa rizzo ma essiccato polvere 12 per cento pepe nero barra piper nigrum semi essiccati polvere proteine animali idrolizzate pollo fosfato di calcico calcio carbonato olio di pesce fitosteroli magnesio stiarato cortecce salice bianco barra salix alba corteccia essiccata polvere additivi per chilogrammi di prodotto additivi nutrizionali 3 a 300 vitamina c 24.000 mg 3 a 700 vitamina e 5.000 mg additivi organolettici arfagolfitum procumbens dc estratto 83.000 mg boswellia serrata roxb olivanum estratto 70.000 mg additivi tecnologici e 551esima acido silicico precipitato ed essiccato 285.000 mg e 460 cellulosa micro cristalline 284.000 mg componenti analitici stq umidità 5 e 42 per cento proteina grezza 707 per cento grassi grezzi 9,96 per cento fibra grezza 19,66 per cento ceneri grezzi 17,75 per cento ceneri insolubili in hcl 8,96 per cento omega 3 totali tg 3 e 15 per cento acido icosapenta e noico epa tg 1,80 per cento vitamina e totale 0,635 per cento indicazioni alimento complementare per cani con curcuma e boswellia posologia direttamente in bocca o nel pasto giornaliero una volta al giorno seguendo le quantità di seguito indicate cani fino a 10 kg 1 compressa cani 10 20 kg 2 compresse cani 20 30 kg 3 compresse cani 30 40 kg 4 compresse cani oltre 40 kg 5 compresse avvertenze non usare in gravidanza fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato